Musica Hakuna Matata ragazzi Ben ritrovati dal vostro di Ciochamer89 Siamo tornati sull'ombra di Mordor E io già che ci sto Non esisto e vado A liberare questi Bei ragazzotti Oh, aie Ah, ci ha fatto la parolaccia Ci ha detto, vieni qua Siamo tornati più gaiardi che mai Su questo fantastico gioco, signori Io non vi dico quanto tempo ci ho messo Prima di poter Sbloccare questa cavolo di missione Veramente ragazzi, tanti, tanti pollicini in su Perché guardate, le due forze aspetta I due ordini e ora di lanciare l'attacco Sulla mano nera La missione è epica, mi stanno dicendo Grazie per essere A corso il nostro aiuto, capitano Non credevo che la regina potesse apprezzare i miei traffici Signora Ma non c'ha la gamba rotta lui Orchi Sono pessimi passeggeri Ma non i peggiori Ah, ecco E poi c'è stanno i nani Dopo di quelli c'è stanno i nani Ehi, non toccare Regina Marvel Sono felice che stiate meglio Vedi? Le barche sono pronte I marinai sanno qual è la tua destinazione Bene Per quanto ti obbediranno gli orchi Credo per tutto il tempo che voglio Vedi? Vi sono debitore Te dobbiamo la vita Talion Pensa a porre fine a questa folia Signora Lei non vuole che ce ne andiamo Lei Lei non vuole La biondina Eh eh Abbiamo fatto colpo ragazzi E ce ne andiamo con gli orchi Però non sono un po' pochini Poi sicuramente dopo ci saranno altre barche Penso Non è quello il problema Così mi sembrano un po' pochini Eh, cioè non voglio dire Però Ecco Già siamo un po' di più Se siamo lui No Ah, proprio così In scontro diretto? Eh, ma noi siamo pochissimi Ma noi siamo pochissimi Dicono che ci sia un mostro Che ci avvelena le menti E beve sangue Uruk Per sfuggire alla morte Ma io dico Che non c'è mostro più grande Dei possenti Urukai A morte Ce neremo A base di uomo Forse ce l'hanno con noi Forse ce l'hanno con noi Niente l'aria col pianto degli Uruk E la terra col loro sangue Ok Ma Sono un po' troppi Putta La ladra Ma sì ma Venite qua Venite Ho combattuto di peggio Che poi loro messa Quelli nostri sono generari comunque Io ve lo dico Oh Mamma mia Dai Aio Mazza che pezzi che mi danno però Dai Devo cercare Devo cercare di Aia Non ci sto capendo Niente mai Non ci Aspetta Devo prendere lui Devo prendere lui Aia Ok Non è un problema Non è un problema Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Ok Non ho altre possibilità Ve lo dico Aia E sarai stronzo Mi l'ho detto presto Non c'ho altre possibilità Ecco Ok Se adesso tu però Mi fai avvicinare Mi fai avvicinare Mi fai avvicinare Mi tutta Eh Hai abbastanza fegato Per affrontarmi All'ora te lo strappo Senti Faccia di stronzo Che non sei No è morto No me l'hanno ucciso Madonna Ma porca Oh Dai È così Cerchiamo Ah Aio Aio Madonna Madonna Ma non ce la faccio Non ce la potrò mai fare Ah Mannaggia Eh sì Comunque avevo detto Avevo detto bene Loro sono Ah Aia Aia Oh Lui lui Devo farli fuori ragazzi Devo farli fuori Il problema Oh Che succede Si è incazzato Si è incazzato Tantissimo Ok Devo cercare Di prendere lui Perché lui mi colpisce Da lontano No Oh Facciamo Volevo far fuori Quell'altro Madonna Manca pochissimo Ragazzi Manca pochissimo Va bene Ti rompo tutto Oh Vedi che bella morte Da campione Ci de pepe Però uno mi è morto Dei miei E se Questa me la Oh Ah se ne va Bene ragazzi Si Questa me la prendo Questa me la prendo Che tanto so potenziamenti Corello uno di noi Non ce l'ha fatta Gli altri non è che stanno benissimo Trova la mano nera Veramente devo trovare La mano nera Tanto loro non mi seguono E Saruman Può essere solo Saruman Madonna Ma qua dentro Che cazzo c'è No è figo È Fighissimo Dai Permesso Sono arrivato Vi rompo il culo Qua sono tutti morti Ragazzi Ma quello Chi è E infatti Io avevo visto Che si era mosso I miei soldati Ti hanno dato Un detto benvenuto Eh vedi No non è lui Dove sei Fatti vedere Questa è opera Della torre La mano nera Ti stava cercando Ma sarà un piacere Fatti fuori Persone Questo è Saruman Questo è Saruman Regà Per me è Saruman Andiamo un po' Inchilati E Per me è lui Guardalo No non è lui È quell'altro pezzo Di merda E io ti porterò Dall'oscuro signore In con me No mai Per nessuno L'oscuro signore Ti perdona Celebrimbor Torna da lui E abbandona Quest'uomo morto Ce l'ha con noi Alzati Ora E combatti Mamma mia Lo guidi forte Non c'è bisogno Ramingo Come non c'è bisogno Celebrimbor È il tuo male Ti ha scelto Silenzio E può liberarti Quando vuole Fermi tutti Qui è importante Qui è importantissimo È solo questo Che sei Ramingo Uno strumento Del creatore D'anelli Però non ce ne frega un cazzo Come puoi Ma quanto è grosso Però Oh Prosciuga Che gioia Affrontare un cuore Cos'è Eh ok Infrar Ma porca Troia Ragazzi Allora Devo trovare Questi non sono Quelli veri Questi non sono Quelli veri È pieno Ma Tente Passa Ok 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 Ah no Aspettate Vogliamo scommettare Che forse Devo fare così Vediamo eh Vediamo se c'ho ragione Perché se io faccio così Vediamo un po' eh E fa lo sapevo Lo sapevo Cioè me lo immaginavo proprio Ecco il secondo Ecco il secondo Ecco il secondo Dai 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 Ok Perfetto Mi sembra che ne dobbiamo prendere altri due Se non dico cacchiate Allora L'altro sta qua L'ho visto Andiamoci a prendere Quest'altro Ovunque me lo immagino Dai Eccolo qua Vieni qua Che sei mio Maledetto Oh Ok Mi manca Mi manca l'ultimo Vai Da Loret Come da Loret Come 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 può essere da Loret Vabbè ma che Che cazzo di magie ci stanno però su sta torre Dai 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 però dobbiamo salire Ok Ok E vabbè Ok Oh Non rivedrai più la tua famiglia B B B B B Vai 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 Madonna Oh Quale cazzo di potenza però Ce l'ha un po' con lui forse No se la ride Che spettacolo di puntata Bellissima Ma voglio vedere però che gli dice a Non eravamo maledetti Esatto Mi hai ingannato Era opera di Sauron No sei stato tu Dovevo morire Con la mia famiglia Credevo a nell'assi vendetta Posso lasciarti Ma c'è solo un modo per chiudere il cerchio La mano nera rimane Non per molto Eh E sa che gli dovemmo andare a romper culo Ma Sono sicuro abbastanza Oh Ok Bellissimo Bellissimo Ragazzi Bello 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 Non so Vostro nuovo comandante Eh ciao Eh ciao Sì Eh certo E vigili E vigili Vabbè Signori io ho 17 minuti di registrazione Non so quanto registrato Forse siamo a 10 minuti 12 minuti Ora vediamo se c'è una cazzin La vediamo Se no stoppiamo qua E poi Ci diamo giù la prossima puntata Perfetto 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 Ok Mille punti di esperienza Vabbè mille cose Ok Ok Signori io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua Se il video vi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Al prossimo appuntamento Con il vostro Di Ciochamano89 Ciao